Io ho sempre contato nella sua presenza nella mia vita. Alessandro l'ho sempre sentito vicino. Non ho mai avuto neanche il sentore che lui si potesse allontanare da me. Io ho scoperto l'amore con lei. Ho scoperto che cos'era vivere insieme ad un'altra persona. Io avevo capito che lei era la donna che avrei visto entrare nella chiesa che l'ha avuto da sposo. Non vedevo la mia vita senza di lei. Grazie a tutti.